20 minuti di riscaldamento, di un po' di allunghi, poi a 10 alle 6, 5 alle 6 ora, si fa un po' di partita. Ciao, eh? Ciao! Ciao! Sì, 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 no! Ho, ho, no! Ho, ho, ho! Pappai, sono devastati, dai! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! È vero, eh? È un'imitiva.